Per me è un grandissimo orgoglio avere un'opera mia qui a Venezia e spero di averne molte di più. Venezia ovviamente ha un peso importante non solo per noi italiani ma anche per il mondo perché rappresenta la bellezza di quello che può arrivare a creare un umano. Bisogna continuare a creare e non a distruggere, quindi bisogna sensibilizzare le persone, fare riflettere sulle nostre azioni, quelle che facciamo oggi che possono avere degli effetti purtroppo anche negativi domani. Per quello che queste mani, che sono mani di un bambino, questa scultura rappresenta smettere di giocare, proprio dice quello, smette di giocare con il nostro futuro. Questo mondo c'è il rischio di essere lanciato in una direzione sbagliata. Io attraverso le mie piccole possibilità di artista cerco di risvegliare nelle persone questa sensazione di protezione verso il mondo.